Il tema della pubblicità professionale è un tema su cui si è molto discusso e rispetto al quale ci sono state molte innovazioni normative. Una volta, come è noto, insomma c'era un tendenziale di vieto di pubblicità professionale, nel senso che si riteneva che il decoro e la professione del professionista gli imponessero di stare fuori dal mercato e di non fare pubblicità come qualunque altra azienda. Questi principi sono stati messi in discussione dal cambio, dalla modificazione del quadro economico, sociale e anche dal diritto dell'Unione Europea che invece impone in tutti i campi, i vi comprese quindi le professioni regolamentate, dove ci sono albi e ordini, impone libera concorrenza e la possibilità quindi di presentare i propri prodotti e i propri servizi. Quindi si è arrivati attraverso vari passaggi normativi al decreto liberalizzazione, il cosiddetto decreto Bersani, che ha liberalizzato la materia imponendo il venir meno di qualunque forma di divieto di pubblicità. A questo punto quindi, come peraltro poi anche ampia copiosa giurisprudenza successiva certificato, c'è un principio generale di libertà nella pubblicità professionale e questo principio chiaramente conosce dei temperamenti che sono essenzialmente di due tipi. Da un lato conosce i limiti ordinari che conosce qualunque forma di pubblicità e quindi la pubblicità non può essere ingannevole, non può essere denigratoria verso altri, come qualunque altra pubblicità di qualunque azienda. Evidentemente vista la delicatezza delle prestazioni che lo psicologo eroga, lo scrutinio sulla legittimità della pubblicità anche rispetto a questi punti comuni con le altre è un po' più stretto, cioè si pretende che la pubblicità di uno psicologo sia un po' più attenta a determinati questi canoni. In secondo luogo invece ci sono dei limiti specifici del professionista e in particolare qui del professionista sanitario che sono legati alla dignità professionale e quindi forme di pubblicità che violino la dignità del ruolo dello psicologo sarebbero da considerarsi illegittime e costituirebbero il lecito deontologico. Cosa costituisce violazione della dignità professionale? È ovviamente un dato di discussione ed è un tema profondamente casistico per il quale invito, anche in questo caso, a contattare l'ordine e a confrontarsi con la segreteria dell'ordine, col personale incaricato nel senso che per capire esattamente, per avere un parere perlomeno su quali siano le pubblicità corrette e quali non lo siano. Ricordiamoci che comunque il decreto di liberalizzazione prevede che la pubblicità si possa svolgere con qualunque mezzo. Conseguentemente non è mai il mezzo ad essere inidoneo o essere indecoroso. È eventualmente quello che c'è scritto o che viene detto nella pubblicità. Nel regime previgente era previsto il nulla osta, per cui il professionista che volesse fare della pubblicità doveva chiedere, prima di cominciare a farla, il permesso all'ordine professionale. Tutto questo è stato abolito dal decreto Bersani, come chiarito peraltro da varie sentenze dei tribunali amministrativi e non è più previsto che gli ordini diano un parere preventivo rispetto alla pubblicità. Conseguentemente non c'è più nessun obbligo di fare, di chiedere un parere preventivo. L'ordine si mette a disposizione per dare dei consigli su come gestire la cosa in modo da evitare un domani di poter avere sensori successive.